Siamo qua per protestare per un semplice ma molto evidente problema, il freddo nelle aule. Miriamo a farci sentire da chi ha il compito di distribuire il calore nelle aule di tutte le scuole, che siano scuole superiori o di qualsiasi grado. È quasi inutile mettere in evidenza quanto questo problema influisca sul rendimento scolastico di noi studenti. Per questo è importante che chi ha il compito della distribuzione del calore mantenga una dignitosa temperatura all'interno delle classi in modo da favorire l'apprendimento di nuove nozioni per noi studenti. Sciarpe, guanti, cappotti e coperti in aula per ripararsi dal freddo delle mura scolastiche. Con l'abbassarsi delle temperature anche all'interno delle scuole inizia a farsi sentire il freddo, una situazione che alle Cionolfi e a Polloni di Fano per un gruppo di studenti è diventata insostenibile. Tant'è che diversi alunni questa mattina hanno deciso di protestare di fronte all'istituto. Noi veniamo in classe con coperte, pile, borse dell'acqua calda, stufette e veniamo vestiti con strati e strati di indumenti. E non è una cosa fattibile poiché non riusciamo a seguire bene le lezioni perché la classe non ha una temperatura adatta per eseguirla appunto. Noi stiamo in classe fino all'1 e 3 quarti e i termosifoni, se va bene, vengono spenti verso le 11. Perciò il caldo si disperde e noi abbiamo freddo. Vogliamo fare un appello a tutti i ragazzi che anche loro nelle loro scuole riscontrano lo stesso problema in modo da muoverci, organizzarci e far sì che i meccanismi che si occupano della distribuzione del calore si attivino e si possano prendere cura di noi. Abbiamo iniziato una raccolta firme all'interno della nostra struttura del liceo artistico che speriamo si propaghi e si espanda all'interno di tutte le scuole di Fano. Ci organizzeremo in modo tale che chiunque voglia partecipare possa aderire a questa iniziativa attraverso una raccolta di firme che passerà molto probabilmente attraverso i rappresentanti di classe. Abbiamo il sostegno di molti professori e molti collaboratori del fatto che sia freddo e infatti si riscaldano con stufette di fianco ai piedi. Io ad esempio faccio il laboratorio di design dei metalli e da noi per riscaldarci in aula utilizziamo il forno dove dovremmo cuocere i lavori. Siamo studenti, non indifferenti!